Se mezza Europa si appassiona al probabile addio di Luis Suarez, il Liverpool potrebbe anche perdere altri pezzi. Dopo il rifiuto del Chelsea all'offerta del Barça per David Luiz, gli azulgrana potrebbero cercare di ingaggiare il roccioso nazionale danese Daniel Hager, il cui cartellino costa ben 20 milioni di euro. Anche l'altro centrale dei Reds potrebbe lasciare Anfield Road direzione Napoli. Dopo l'arrivo di Pepe Reina in prestito per un anno, l'ex numero uno del Liverpool, Rafa Benitez, sta cercando di portarsi dietro un altro dei suoi fedelissimi. Lo slovacco Schürtel, nonostante i suoi 28 anni, è molto ricercato però, cosa che potrebbe rendere più complicato o costoso l'acquisto del centro europeo per il Napoli. Ultimo ad entrare in campo il danaroso Zenit San Pietroburgo di Spalletti. Il Liverpool per ora tiene duro e non cede sul prezzo, 15 milioni di euro, o non se ne fa di niente. Una delle parole d'ordine per i nuovi tecnici sembra essere circondati di fedelissimi, cosa che anche il nuovo tecnico del West Brom sta provando a fare. Dopo aver riportato oltre manica nel cal, l'ex tecnico del Chelsea sta cercando due e altri ex blues. Se l'arrivo dell'ala del Man City Scott Sinclair sembra sempre più probabile, c'è chi è sicura che il pesante stipendio dell'ex Swansea sia un problema. Il West Brom punterebbe anche il nazionale ivoriano Salomon Calou. I baggies hanno fatto scattare la clausola rescistoria offrendo 4 milioni di euro per l'ala dell'île. A White Hart Lane poi fervono i preparativi per ridurre i danni del probabile addio di Gareth Bale. In arrivo da Tolosa sarebbe il centrocampista Etienne Capoue. Gli Spurs pagherebbero una cifra attorno ai 12 milioni di euro per portare nel nord di Londra il nazionale francese. Nota finale dall'Olanda dove il PSV Eindhoven, una delle possibili avversarie del Milan in Champions League, ha preso in prestito dal QPR l'ex Man United Park Yisung. Ci vediamo domani per il Mercato dall'Europa. Grazie. Grazie.